Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinottese. Ho creato una nuova poesia dal titolo L'Umiltà del Cuore. Spero la spedirete a tutti su Whatsapp e farete iscrivere tutti gli amici. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo L'Umiltà del Cuore perché dobbiamo sempre essere a disposizione del prossimo per aiutarlo, sempre il lume della ragione per cercare di rincuorare le situazioni difficili. Dobbiamo sempre essere umili di cuore e saper offrire molto alla gente che col tremore si rivolge a noi per un conforto. A volte la gente soffre, non sappiamo il grado di sofferenza e dobbiamo essere sempre vicini, avvicinarci, dare il nostro conforto. Dobbiamo essere la luce per i cuori bui, il seme della speranza per chi l'ha persa, e il sole dei poveri, e la gioia per chi non sorride. Ecco, vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo L'Umiltà del Cuore. Siate sempre a disposizione del prossimo per aiutarlo, siate sempre il lume della ragione per cercare di rincuorarlo. Siate sempre umili di cuore e saprete offrire molto alla gente che col tremore si rivolge per un conforto. Siate la luce dei cuori bui, siate il seme della speranza, siate il sole dei poveri, siate la gioia per chi non sorride. L'umiltà del cuore dona molto a chi chiede, offre la bontà con amore, e sulla sua vita dell'Onnipotente risiede. Grazie, spero la condividerete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Arrivederci. 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 Grazie a tutti.